E' un venerdì particolare questo, è una via crucis particolare. Abitualmente facciamo o ricordiamo altri momenti del percorso del cammino di Gesù verso il Calvario per la crocifissione. Oggi, questa sera, abbiamo ricordato soprattutto e con tutti i momenti che Gesù ha vissuto nel suo cammino verso il Calvario portando la croce, incominciando dal momento dell'agonia nell'orto del Gessemani, in mezzo a quegli ulivi dove ha sentito la sofferenza forte, profonda, di tutto il male del mondo che arrivava su di lui e è arrivato fino ad avere quell'angoscia mortale che gli ha fatto sudare sangue. E poi, continuando, ecco abbiamo ricordato i vari momenti, momenti in cui lui ha dovuto affrontare non soltanto la cattiveria dei nemici, di coloro che abitualmente, quando li incontravano, diciamo, non lo vedevano con un buon occhio, ma ha dovuto affrontare anche, ecco, quell'abbandono dei suoi, cominciando dall'orto del Gessemani, dove i suoi dormivano invece di pregare con lui, e poi soprattutto, ecco quei due momenti tristi, no, del bacio di Giuda, di questo suo apostolo, un apostolo, non qualcuno così che l'aveva appena conosciuto, un apostolo che era vissuto con lui per tutto il tempo della sua vita pubblica e con un bacio, con un bacio, ha tradito il figlio dell'uomo. E poi ancora di più, io credo, quella sofferenza del cuore quando ha guardato Pietro, dopo che il suo apostolo, colui che l'aveva riconosciuto come figlio di Dio, colui al quale Gesù aveva detto tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E in quella sera, in quella notte, solo per la parola di una serva, lui ha avuto paura, non conosco quell'uomo. Ma ben differente è stata la reazione, no, Giuda si è allontanato, si è allontanato da Gesù, Pietro ha ingontrato lo sguardo di Gesù e ha pianto amaramente. E poi anche tutti gli altri momenti che ricordiamo nel Vangelo, vogliamo soprattutto imbegnarci in questi giorni, che ci separano dal giovedì, venerdì santo, prendere il Vangelo e rileggere questi momenti. Questa sera, ecco, vogliamo ringraziare Padre Giancarlo, che ci ha aiutato con i suoi versi. Ecco, pensavo anche nel Medioevo, Agopone da Todi ha fatto tanto, ecco, tanti versi sulla passione del Signore. Sono tutti versi belli. Io voglio portare nel mio cuore solo quella frase, perché non ricordo tutti gli altri, ma quella frase la voglio ricordare sempre. proprio dalla croce Gesù dice «La mia mamma la dono a te». E questo perché oggi, ecco, c'è questa vigilia. Abbiamo iniziato con la Messa Vespertina, la solennità dell'Annunciazione del Signore, la solennità di Gesù che si incarna, ma anche di Maria, che diventa la sua mamma, che diventa la mamma del Messia, la mamma di Dio, e che ha questa missione grande di portare Gesù nel mondo. Sì, proprio da quel momento, ecco, il Verbo Eterno del Padre lascia quella grandezza, pur essendo di natura divina, ci dice Paolo, non si fermò davanti all'amore che portava all'umanità e ha svuotato se stesso, assumendo la nostra natura umana. Ma pensiamo che quei nove mesi che Gesù ha passato nel grembo di Maria sono stati un momento, un tempo intermedio. Prima c'era il Paradiso, c'era la vita di Dio, la vita della Trinità. In quei nove mesi lui è stato veramente custodito, protetto, amato. Aveva ancora una parte di Paradiso da godere. E poi, quando ha incominciato a vivere esternamente la vita umana, ecco, ha dovuto affrontare quella umiliazione, quella comunione totale con la nostra natura umana, non soltanto la nostra natura umana forte, potente, che decideva di sé, ma soprattutto quella natura umana che l'ha portato a donare la sua vita, a subire l'ingiustizia. Sì, Pilato dice non trovo in lui nessuna colpa e lo condanna a morte. È assurdo. E allora, ecco, proprio guardando a Gesù e ricordando il suo amore immenso, vogliamo ringraziarlo, come vogliamo ringraziare Maria. No? Lei ha iniziato questa avventura, o ha fatto iniziare questa avventura al figlio di Dio, noi gliel'abbiamo fatta concludere sulla croce, ma lui ha vinto. E allora, sì, ricordiamo tutto questo percorso, ma portiamo nel nostro cuore, ecco, questi due doni, la mamma sua che la dona a noi e la sua risurrezione che ci dà la possibilità di avere una vita nuova. E allora vogliamo ringraziare il Padre, vogliamo ringraziare Gesù, vogliamo ringraziare Maria e Giuseppe che l'hanno custodito, ma vogliamo soprattutto chiedere a loro l'aiuto perché nella nostra vita Gesù ogni tanto almeno possa trovare ancora un po' di paradiso e ce lo faccia gustare anche a noi. Amen.